Torna a far discutere la polemica sull'indennizio e riconoscimento in favore degli esuli istriani. Non è possibile che davanti a drammi come quelli che sono accaduti nel corso della storia si pensi di liquidare una vicenda così dolorosa, in questo modo liquidando a Tarallucci e Vino una vicenda che ha un valore storico e politico importante. La Cassazione ha bocciato il ricorso presentato dagli eredi di alcuni esuli Giuliano Dalmati che richiedono i risarcimenti per quanto subito al termine della Seconda Guerra Mondiale. Lo Stato italiano non deve risarcire ulteriormente le parti ricorrenti poiché la violazione è stata compiuta dalla ex Jugoslavia. Con queste motivazioni la sentenza vuole mettere la parola fine all'intera questione, cosa però che non intendono fare i consiglieri regionali di Forza Italia che hanno presentato in Consiglio una mozione urgente al fine di affrontare su un piano politico l'annoso problema degli indennizi agli esuli istriani e dalmati. Chiederemo alla Giunta regionale e alla Presidente della regione di farsi parte di gente nei confronti del governo affinché il giusto riconoscimento venga inserito all'interno di una disposizione di legge che dica a qualcuno che prima di tutto, questo è già stato riconosciuto, che quei fatti ci sono stati e che abbiano il giusto indennizzo. Grazie a tutti.